In che modo l'implementazione della PDND, la piattaforma digitale nazionale dati, può migliorare l'efficacia e l'efficienza della formazione e della ricerca all'interno delle nostre università? È sicuramente l'occasione per condividere informazioni a livello di sistema, banche dati che sono vari da livello governativo, e per riprendere in mano alcuni processi già in parte automatizzati, ma che non potevano beneficiare di questa integrazione complessiva. Inoltre, l'abbiamo visto anche quest'oggi, l'occasione per fare il sistema mettendo intorno a un tavolo sia intergovernativi, sia il comparto universitario, che ha già dimostrato in passato in altri contesti di riuscire a lavorare facendo squadra e implementando delle soluzioni altamente innovative in modo coeso. Quindi sicuramente può essere l'occasione per essere ad esempio anche rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. L'università è anche un ente di formazione, quindi oltre ad essere fruitore di una serie di risorse e servizi, è anche un soggetto che può mettere a disposizione competenze per migliorare il sistema. Certo, infatti abbiamo avuto anche negli anni scorsi esempi messi in campo da Cruy, come collegamento diretto fra la parte di formazione e la collaborazione con Agid, organizzando eventi di formazione e percorsi che hanno consentito anche ad altre pubbliche amministrazioni di beneficiare di queste competenze che caratterizzano il comparto universitario.